ok ma bella tutti siamo qua in un nuovo video con le campane sempre di sottofondo ma vabbè però lo dovevo un pochino fare questo video e siamo intanto sistema un po il tutto e a parte che sono appena tornato da lavorare e ieri sera c'è stata Tottenham Juventus da Cardiopalma cioè la Juventus un pochino l'ho vista un po sofferente però quando ha preso il gol ha detto allora ascoltiamo qua dobbiamo andare avanti e non è possibile tutto ciò e pronti via andata a fare l'1-1 e il 2-1 per aggiudicarsi poi risultate e andare poi ai quarti speriamo di beccare una faccia di una squadretta la squadretta apportabile così da riuscire poi andare anche in semifinale e speriamo che in real madrid barcellona paier monaco tutti quelli diciamo forti si scazzino un po tra di loro da uscire così giusto per cercare di arrivare in finale e vincere e così posso mettere il titolo lì a parte questo e volevo anche parlarvi un po nel canale se non avete visto un charted 4 andatelo a vedere perché l'ho portato tutto sul canale quindi andatelo a vedere in descrizione mi sono fatta la mia lista la solita in descrizione andate su una pagina facebook perché lì comunque dopo aggiornerò sui video che usciranno comunque ci saranno più informazioni su sulla pagina facebook poi a sense creed unity se vedo che a qualcuno interessa lo finisco di portare se non me lo gioco per conto mio e quei video che ho registrato li ho già li carico se non interessa me lo gioco per conto mio poi volevo portare anche far cry 5 adesso valuterò se portarlo se vedo che questi video che porto adesso vanno un pochino bene far cry 5 lo porterò quindi se volete seguire a far cry 5 ditemelo che ci farò qualcosa poi se tutto quello che c'ho in mente fare perché legato che avevo non poi era incompatibile con le porte esibite 3.0 quindi devo comprare un altro quindi se mi arriva e va tutto bene il computer va bene tutto cercherò di portare i due dlc di access creed origins se non ho già fatto qualcun altro e e quindi perché sono lì che ci voglio di giocarci e ci voglio giocare poi dopo vedendo come va ritornando ad uniti vedendo un po come va eccetera eccetera se vedo che le serie un po che porto vanno un pochino bene porterò anche altre serie perché sono questo il microfono che spunto va bene perché sennò porterò uno parra due tre vita settimana perché essendo che comunque lavoro praticamente tutto il giorno e sto facendo già tantissima fatica a portarvi un video uno parra anche due video al giorno molto spesso e quindi vedendo che portando un video al giorno un po non ve li guardate tanto e quindi molto probabilmente forse se non ci saranno gioconi gioconi ma io di gioco intendo un certo 4 the last of us questi titoli non non porterò più un video al giorno quindi per questo che ho detto all'inizio seguitemi su facebook perché su facebook dirò quando farò delle serie o meno e così da rimanere comunque aggiornati se usciranno delle serie o meno comunque poi li linkerò anche tutti i video che poi usciranno quindi seguitemi su facebook quindi vedendo un po' a seconda uniti come va poi arriverà anche far cry e quindi i video al giorno se non c'è proprio un giocone 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 si ridurranno a due o tre che può essere tre vlog due gameplay un vlog o un vlog due gameplay comunque seguitemi su facebook che lì c'è tutto benissimo quindi è la più la maggior parte di cose che non può dire l'ho detto poi venuto in mente ma la collaborazione tra youtube serve sì perché comunque puoi far conoscere ad altri al pubblico un po che hai altri youtuber che non possono non conoscere e così via dicendo quindi un po serve collaborare con altri youtuber perché comunque uno dice guarda c'è anche quest'altro youtuber uno lo può andare a vedere se l'interesse è quello che fa si può iscrivere o non si può iscrivere e niente questo era un po' il tutto che volevo dire un po' in questo in questo vlog subito subito sempre forte giuventino anche qua dietro guardate qua giuventino sempre era e queste erano le cose che volevo dire speriamo che ai quarti non becchiamo una squadra forte e niente comunque passate sul mio facebook e niente e ci vediamo un po' al prossimo video bella e ci vediamo un po' al prossimo video bella